Dylan Dog 433, cavalcando il fulmine. Come on baby ride my lightning... Ah no, quella è un'altra canzone. Wabalabadab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Dylan Dog. Annuncio fin da subito che la rubrica Fumetti da novembre in poi la farà da padrona. Sto cercando di tirare un po' i remi in barca sul canale e vedere un po' i video che vengono visti di più. Ovviamente Dylan Dog la fa da padrone. Di conseguenza non dico che mi specializzerò solo sui fumetti, ma che vedrete per la maggioranza la priorità ai video di Dylan, ai video di Samuel. Uscirà anche Calia, quindi parleremo anche di Calia. È uscita l'undicesima stagione di Buffy in un'unica soluzione di 272 pagine, quindi datemi il tempo di leggerla e poi parleremo anche di quello. E continuerà la rubrica del recupero dei fumetti dell'ADW delle tartarughe ninja fino a raggiungere il numero 49 e poi continueremo a parlare appunto della serie regolare della medesima. E su tutti gli altri video invece vedrò in base ai miei tempi che saranno un po' più risicati per motivi che c'entrano con il mondo nerd, ma che vi dirò più avanti. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno una sedia elettrica in casa e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero e di quello che si sta vociferando sul nuovo vecchio corso di Dylan Dogg che presto ricambierà di nuovo per diventare come prima. Insomma, non si sa, non si capirà, ci sarà ancora il numero 434 e poi dal 435 in poi ci sarà un trittico che vedrà il nostro nuovo vecchio Dylan stravolto per diventare il vecchio nuovo Dylan. Insomma, vedremo, vedremo, faremo questo viaggio insieme e ne parleremo. Anche alla luce di tutti questi fantastici cambiamenti che sono stati esternati un po' dalla casa editrice, dal curatore, questo numero passa un po' in secondo piano. Perché? Perché è una bellissima storia, c'è una storia che scorre tranquillamente con i fantastici disegni di Corrado Roy che comunque danno sempre un tocco... Non lo so, quando c'è di mezzo Corrado Roy nelle storie nuove è come se fosse il nuovo corso, come se il nuovo corso avesse la firma di Corrado Roy e gli altri disegnatori, diciamo, siano dei supplenti, no? Però non è che io apprezzo sempre Corrado Roy, cioè nel senso Corrado Roy a me piace, mi piace vederlo legato a Dylan Dog, però mi piace che ci siano anche altri stili di disegno all'interno della collana, ovviamente. Però, quando c'è di mezzo Roy, non lo so, la storia mi sembra ancora più Koopa, ancora più horror e devo dire che qua invece fa un po' contrasto con la storia che si comunque vede un mostro, vede il sovrannaturale, quindi da questo punto di vista mi è piaciuto che Dylan... cioè non è la classica storia dove Dylan potrebbe essere qualunque altro personaggio, potrebbe essere Paperino e sarebbe la stessa cosa, no, è una storia che coinvolge il paranormale, le epoche, comunque che il passato e il presente che confluiscono e che non si spiega come, il tutto che avviene in un momento specifico del tempo e Dylan comunque cerca di fare un po' da catalizzatore di tutto ciò, passatemi questo termine rubato alla concorrenza, il tutto con la bella di turno, che non ricordo se Dylan si tromba questo giro, francamente perché l'ho letto una settimana fa questo numero, scusate il ritardo tra parentesi, ma che comunque è mezza nuda per tutto il tempo e quando non è mezza nuda lei c'è anche una donna di professione che fa appunto la donna, la escort se così vogliamo chiamarla, che anche lei assomiglia molto tra l'altro alla protagonista e anche lei ovviamente è nuda per il lavoro che deve svolgere, peccato che poi verrà brutalmente uccisa da uno dei villain di questa storia. In generale a me il numero è piaciuto, è piaciuto molto, però ecco, diciamo che in vista di tutto quello che ci sarà mi è sembrata quasi una storia fin troppo leggera, se mi concedete il termine leggera. E poi il vagare un po' di questo indiano che è stato condannato a morte, che si è messo a vagare appunto nella... in questo limbo, in questo limbo che è il nostro presente, francamente pensavo ci avesse portato da tutt'altra parte come storia. E invece alla fine diciamo che era un pochino il suo destino combattere questo mostro che si era formato all'interno della sedia. Molto interessante e molto... non so, è stato un plot twist finale, no? In un certo senso non si capiva bene dove andasse a parare questo numero e forse volevano proprio non farcelo capire fino alla fine, però non mi ha dato le sensazioni forse che volevano intendere. magari appunto volevano intendere che c'era questo nemico nella sedia reale che doveva svilupparsi e combattere contro l'indiano che era il buono, però questo sviarci, non so se volontario o involontario da questo, mi ha portato un po' sulla strada sbagliata e non ho apprezzato. Forse per un numero così avrei preferito una trama un filino più lineare dove si capiva subito che c'era appunto... subito intendo proprio nelle prime tavole che c'era un mostro nella sedia e che l'indiano l'avrebbe dovuta affrontare un'ultima volta prima di andare nel suo paradiso fondamentalmente. Però diciamo che grosso modo l'ho apprezzato. Devo dire che questo è uno dei numeri di Dylan Dogg che si acquista molto 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 per la copertina perché quanto cacchio è bella la copertina. Innanzitutto c'è un fortissimo richiamo all'album dei Metallica, Ride the Lighting, che comunque è un modo di dire americano per intendere appunto andare sulla sedia elettrica, ma al di là di quello c'è proprio la copertina medesima che richiama sia come immagine che come colori proprio quell'album dei Metallica che cita anche Recchioni stesso nel suo editoriale. Ed è fantastica, cioè io questa copertina la vorrei nuda e la mettere... e la inquadretterei magari. Ovviamente è un quadro pop, non è magari una versione di Cavenago che si può inquadrettare con una vecchia cornice, però è molto molto bello. I Cestaro Brothers su questo numero mi sono davvero piaciuti tanto. Tra l'altro ci mostrano dopo una vita cosa c'è sotto la camicia di Dilan Doga che vi ricordo solo nei primi numeri aveva la camicia nei pantaloni poi ha iniziato a tenerla fuori dai pantaloni. Ci hanno mostrato che almeno la sua cintura non è rossa come i calzini, come i lacci, ma è una normalissima cintura nera. Nulla, in generale ecco, sono molto contento. Devo dire che questa citazione a cavalcando il fulmine dei Metallica francamente mi ha ricordato come grandezza citazionistica quasi i numeri di Vasco e mi aspettavo quasi che anche la storia medesima parlasse proprio di quella canzone. Però, in generale, mi sono trovato bene, mi ha entusiasmato. Non è il numero della vita, ma è un mese che ho trascorso con Dilan senza troppe polemiche, mi è piaciuto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, fatemi sapere cosa vi aspettate dai prossimi numeri. Vi ricordo anche in questa rubrica, che appunto è quella più vista quando sono puntuale, che io sarò a Lucca, sarò a Lucca Comics 2022 tutti i giorni. Sarò in giro a cercare gli altri stimati colleghi da abbracciare e da salutare. Se per caso mi vedete, salutatemi, non fatevi problemi. Può essere che sarò in cosplay, però se mi seguite su Instagram, ovviamente vedrete come sarò vestito quel giorno. Quindi, nel caso, comunque fermatemi, che mi fa piacere. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video.